Sai dove ti trovi in questo momento? Siamo nel cuore della guadagna, una delle prime borgate palermitane. Un tempo aveva un aspetto completamente diverso rispetto a quello che vedi adesso. Ma che cos'è una borgata? A Palermo le borgate costituiscono l'espansione fuori le mura di edifici suburbani avvenuta tra il XVIII e il XIX secolo, lungo le principali vie di comunicazione che partono dal centro storico e arrivano al tessuto agricolo della Conca d'Oro. Con l'avvento delle borgate si instaura un rapporto città-campagna di tipo moderno che evita il trasferimento giornaliero del contadino nei luoghi di lavoro. Questa situazione permane sino al momento dell'espansione urbana che prende il nome di Sacco di Palermo. Difatti, già negli anni settanta, Salvo Licata, giornalista, regista, scrittore, autore di teatro e di cabaret, si rende conto che le borgate tendono a sparire, assorbite dall'espansione a mano armata della città. Ogni giorno di più le borgate diventano dei dormitori della Palermo Impiegatizia e di questi luoghi rimangono soltanto i nomi belli di una volta. Come conseguenza vi sono notevoli problemi infrastrutturali ed inserimento a livello urbano. Per capire cosa è cambiato tra ieri e oggi, ascoltiamo la testimonianza di chi vive in questi luoghi, come ad esempio Giuseppe e Anna Maria, che vivono in questo quartiere da 40 anni. Voi vivete in questo quartiere da sempre? C'è da quanto tempo? Sì, sì, da 40 anni. Da 40 anni. Ma siete nati qui? C'è nati e cresciuti qui? No, 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 siamo... E in quale quartiere siete nati? È zona Vioretto, diciamo. Ah, beh, sempre qui, dice. Io in provincia. In provincia quindi dove? In provincia di Palermo, Codrano. Bello. E cosa pensate di questo quartiere in cui vi viva già ormai da tanti anni? Insomma. È ben servito, diciamo. Diciamo che è al 50%, al 50%. Qualche cosa non funziona, ma è normale, come in tutta la città, che non funziona. Tipo cosa che non funziona? Un po' di pulizia. Un po' di pulizia. I marciapiedi non vengono puliti costantemente. Le strade un po' abbandonate. E così. L'imbondizio ogni tanto aumenta, anziché essere presa tutti i giorni. Comunque, diciamo che tutto sommato si vive, perché i servizi ci sono. E tu qui? Come ti trovi? E tu qui? Come ti trovi?